Fiamme, urla disperate, colpi di cannone, poi ondate violente che dal mare in burrasca sommergono i marinai sul ponte. Siamo a Taranto sul set del film Comandante. 1940, seconda guerra mondiale, in pieno atlantico il sommergibile Cappellini viene attaccato da un mercantile armato che viaggia a luci spente. Il cabalo risponde al fuoco e lo affonda, però il comandante vede i superstiti che nuotano verso il suo battello e così decide di tirarli a bordo per quattro giorni e quattro notti navigò in emersione rischiando di essere bombardato. Le gesta che hanno reso leggendario il comandante Salvatore Todaro interpretato da Pierfrancesco Favino. Una storia mai raccontata prima in oltre 80 anni, quella che avete sceneggiato a quattro mani con Sandro Veronesi, è importante però sottolineare che ogni personaggio è esistito realmente attraverso un diario di bordo che voi avete ritrovato, ma è vero che questa storia l'ha presa durante una festa della Guardia Costiera nel 2018. Delle dichiarazioni dell'ammiraglio Pettolino, come ogni storia veramente emblematica, non parla soltanto del tempo in cui si verifica, ma di ogni altro tempo, compreso il nostro. Che accoglienza avete trovato? L'accoglienza dei Tarantini è squisita, l'abbiamo coinvolto per fortuna grazie anche alla Fincommission, lavoratrici e lavoratori del posto. Quella romeggiata alle nostre spalle nell'arsenale di Taranto è una fedelissima riproduzione del Cappellini, che ha richiesto in otto mesi di lavoro l'impegno di 100 tra artigiani e ingegneri, 73 tonnellate di acciaio per uno scafo lungo 73 metri. Questa è parte della imponente strumentazione che viene utilizzata per registrare le riprese degli esterni, quelle interne invece vengono girate a Cinecittà. Avete collaborato con Cinecittà, Fincantieri, ma anche la Marina Militare, vi aspettavate questa apertura? Speravamo, speravamo in questa apertura da parte della Marina, non avremmo potuto realizzare questo film senza il loro supporto sin dall'inizio, quando ci hanno aperto gli archivi storici. Che target e quale impatto avete immaginato per questo film? Per i giovani che devono scoprire la storia degli eroi italiani, per chi ama i film spettacolari, per chi ama anche i film d'azione. Quando potremo vederlo in sala? A fine del 2023. A fine del 2023.